E' un operatore scolastico di 37 anni, Simone Babbini, che lavora in zona, l'automobilista che a Fermignano lunedì mattina ha investito e colpito con 13 martellate Matteo Bastianelli, 46 anni, direttore del Conad. L'uomo è accusato di tentato omicidio e dopo l'aggressione è stato rinchiuso nel carcere di Villa Fastigi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'automobilista stava procedendo in direzione urbana alla guida di una Ford Focus nera. Intorno alle 6.45 Bastianelli stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, nell'intersezione tra via Piave e via Montegrappa, a Fermignano, quando è stato quasi investito dall'auto. Ha fatto un gesto di protesta e il conducente, dopo un'inversione di marcia, ha tentato di metterlo sotto intenzionalmente, toccandolo. Il 46enne è finito sotto la vettura e è riuscito ad alzarsi per fuggire. L'operatore scolastico l'ha inseguito e ha iniziato a colpirlo alla schiena con il martello. Poi si è avventato verso il malcapitato direttore del supermercato, infierendo con calci e pugni. Bastianelli è riuscito a divincolarsi e a ripararsi dietro il guardrail. L'aggressore ha anche cercato di buttare la vittima nel dirupo sottostante. È stato salvato dall'intervento di un addetto di Marche Multiservizi. Quando è intervenuto l'operatore ecologico, il 37enne è fuggito lasciando lì il martello, ma qualcuno era riuscito a prendere la targa dell'auto. Il veicolo è stato visto poco dopo davanti alla casa di un parente dell'uomo, che è stato successivamente rintracciato dai carabinieri e arrestato. Bastianelli, trasportato all'ospedale di Urbino, lunedì pomeriggio è stato dimesso. Ha uno zigomo fratturato, 13 punti di sutura al volto e chimogi in varie parti del corpo. Su Facebook il 46enne, sposato e padre di due figli, ha scritto un post per rassicurare tutti quanti. Sto bene per quello che può essere stare bene dopo essere stato investito e preso a martellate, ha riportato sui social. Ma sto bene anche in virtù del fatto che davvero ho visto la morte in faccia. Se non fosse per il signore che ha interrotto la follia omicida del mio aggressore, non sarei qui a raccontarlo. Ha concluso Bastianelli. La provincia di Pesaro Urbino è stata scossa negli ultimi giorni anche da un'altra aggressione, avvenuta a Gabice Mare nella notte tra sabato e domenica, ai danni di Pasquale Marzocchio, un imbianchino di 52 anni, finito all'ospedale dopo essere stato picchiato e accoltellato con le cossole fratturate, la milza bucata e un gluteo perforato. Gli aggressori sono un uomo di 39 anni e il fratello di 34, accusati di tentato omicidio. Nelle prossime ore è attesa presso il Tribunale di Rimini l'udienza di convalida degli arresti. Sarà un passaggio utile per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Anche la vittima potrà fornire la sua versione per ricostruire la violenta aggressione.